La squadra di Giandonato vuole allungare la striscia positiva, ma contro il Fossombrone bisogna essere concentrati al massimo. L'undicidi di Baldarelli infatti non ha mai perso fuori casa. Nel centrocampo della Tessa, senza Maruggi e Lezcano, si schierano Morelli e Beniamino. In attacco Alterio è assistito da Rosetti e Disenso. Soria parte dalla panchina. Ospiti pericolosi al quinto con Donzelli che si incarta, ma Fiori chiama Sant'Andrea la respinta. La risposta della Tessa è affidata da Alterio al sesto con Giustelisi che fa buona guardia. Donzelli senza pretese al nono e Sant'Andrea blocca. Marchigiani brillanti e ben organizzati al quattordicesimo e ancora il numero 9 dalla distanza con palla sul fondo. Dopo un buon avvio cala il ritmo e le emozioni per i pochi intimi del Monte Marcone si fanno attendere. Al trentottesimo cross di Fiori per la deviazione aerea di Moschini, Sant'Andrea dimostra di stare sul pezzo. Al quarantesimo Boschetti pesca Alterio in mezzo all'area, la palla però scivola sul fondo. Con un malinconico 0-0 si va quindi negli spogliatoi. Nella ripresa al terzo conclusione a salve di Fiori, Sant'Andrea senza problemi. Al quinto doppio cambio operato da Giandonato, dentro Soria e Dorazio, fuori Martelli e Rosetti. Subito Soria insidioso al sesto con Giustelisi attento. E al settimo ancora un'incursione dell'attaccante della Tessa deviata in corner. E' un ingresso che dà la scossa ad una gara che però non regala più altre emozioni fino al 93esimo. La partita finisce 0-0 con le reti inviolate e la Tessa che infila il sesto, risultato utile consecutivo. Devo alloggiare tutti i miei giocatori. Fuori casa riusciamo a essere compatti, a fare anche un buon gioco corale. Quindi oggi sono ritornato a vedere la squadra che conosco. Domenica scorsa ci può stare, una parentesi negativa, una prestazione un po' sotto tono. Però insomma stiamo lavorando, siamo qui per migliorarci e andiamo avanti. Sicuramente volevo, come volevamo tutti vincere, però questa è una squadra che non a caso, fuori casa non ha mai perso. Quindi è venuta qui, si è messa lì, si è messa ben messa in campo, ordinata, non ha rubato sicuramente nulla. Ha fatto la sua partita, siamo stati noi poco bravi a scardinarli e a fare gol. Quindi se sblocchi cambia tutta la partita, se non riesci a fare gol rischi fino alla fine e molte volte queste partite puoi anche perderle.